E' di una vittoria e due sconfitte il bilancio delle siciliane impegnata nel girone D del campionato di Serie B. Vince la Fortitudo Agrigento che scrive una pagina di storia, 20 vittorie di fila, un record ottenuto in trasferta a Sant'Antimo, una grande prova dei ragazzi di coach catalani che fanno una partenza sprint e poi stringono subito le maglie in difesa bloccando tutti i tentativi di rimonta dei padroni di casa guidati da coach Agostino Riglio che per la prima volta da inizio stagione vengono sconfitti tra le muramiche. Termina 48 a 60 ma la partita più importante la società del presidente Moncada la vince fuori dal campo e senza pallone. E' stata infatti portata a termine la missione umanitaria Agrigento for Ukraine che ha visto viaggiare un pullman carico di beni di prima necessità donati dalle persone dell'agrigentino fino al confine tra Polonia e Ucraina. Il viaggio che è stato documentato dal videomaker Marco Gallo è però continuato perché lo stesso autobus dopo aver percorso 5.760 chilometri tra andata e ritorno è tornato al Palamoncada con 40 tra donne e bambini fuggiti dalla guerra. Molte di loro hanno lasciato i propri mariti e i figli grandi a combattere e le loro case sono state distrutte ma sono riuscite a fuggire verso la Sicilia in cerca di serenità in attesa che tutto possa finire. Sempre in Serie B sconfitta in terra pugliese per la Fidelia Torrenova che cede a Taranto i due punti e anche il quarto posto in virtù del ribaltamento della differenza Canestri. I siciliani partono meglio ma dopo 33 minuti di ottimo livello si arrendono al Cus Ionico per 83 a 68. La formazione di coach Bartocci domenica prossima tornerà tra le mura amiche del Palaluxor Building attendendo la visita della Virtus Ragusa. La terza siciliana del girone D reduce da una sconfitta casalinga rimediata contro Pozzuoli che ribalta il pronostico espugnando il palapadua per 74 a 75.